Salve a tutti sono JosephDoubleGun e sono qui oggi in questo video per dimostrarvi come sbloccare la stanza nascosta nella mappa del DLCA Pricing Mob of the Dead Allora per sbloccare la stanza dobbiamo prendere le tre bottiglie di alcolici diciamo sparse per la mappa La prima è presente qui al porto dove vi ho fatto vedere la prima Mentre la seconda la possiamo trovare nella stanza in cui spawniamo vicino alla libreria Noi quindi dovremo andare alla seconda stanza Questa qui e dobbiamo prendere questa bottiglia sulla libreria La prendiamo con quadrato e sentiremo sempre il solito rumore Ora invece andiamo alla terza e l'ultima bottiglia La terza e l'ultima bottiglia invece dovranno le caratteristiche di infermeria Giriamo questa stanza e la troviamo qui su questo tavolo La prendiamo e automaticamente partirà la song Ve lascio sentire Allora questa ragazzi è la canzone della preview Insomma era la canzone del promo di questa mappa Quando ancora doveva uscire E quindi sblocca prendendo queste due bottiglie Insomma a posto io il sacchiotto e adesso abbiamo le bottiglie Grazie a tutti per aver guardato questo video E ci vediamo con il prossimo video Ciao 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 Ciao